Oh, è arrivato il momento di far un po' di ginnastica su qualche sito porno. Oddio, e mo chi è? Pronto, casa Ronaldo? Ah, se mi dovete vendere i cortelli dei chef Tony, vi attacco subito, eh? Eh no, sono la professoressa Esposito. Professore, io non ce torno a scuola. Ho lasciato a terza media sto posto così. Non si preoccupi. Non chiamo per lei, chiamo per suo figlio. Sono circa due settimane che non viene a scuola. Sto maledetto. Io non sapevo proprio niente. Mo appena vedo gli parcheggi le mani in faccia lo faccio diventare come un quadro di Picasso. Eh, guardi signor Ronaldo, controlli la sciabarabba. Eh, gli sembra facile a lei. Io non gli ho fatto manca niente e lui mi dice bucìa. Gli ho comprato la panda, le escort, tutto. Forse è un periodo difficile. Eh, sì, da quando gli è morto il tricheco in giardino non è più lo stesso. Avevate un tricheco? Due trichechi. Una starnutita e è morto. Meno male che sono riuscito a starva l'altro. L'ho messo dentro casa, se no gli venireà a freddore pure a lui. Comunque non si preoccupi, e mo ce penso io a lui. Cerchi di essere comprensivo, è un bambino. Eh, un bambino è un par de palle, quando gli è par a lui è un bambino. Per favore modiri i termini. Eh vabbè, bambino mica è una parolaccia. Va bene, arrivederci. Mazza che scassa, coglioni ho. Allora, Kikko, domani rifammo seca, eh. Sì. Che a me me va proprio da andare alle namme. Do a namo? Andiamo a tirare le uova le nigeriane sulla tangenziale. Namo. Belli regà, se vi è piaciuto il video e ne volete altri, mettete il like, condividetele, fate una giravolta, rifatela un'altra volta e date un bacio a chi vuoi tu. Potete seguirmi su Facebook e su YouTube come Tossico Dipendenti con i Parastinchi, su Instagram come Momotdcp e buona coppa in faccia a tutti quanti.